Amici, buongiorno, bentrovati dal vostro vetrano del fantacalcio, grazie all'amico Danilo e gli amici del torneo nazionale di Football Manager FMC sul forum FMAF che sono veramente un gruppo di grandi esperti sul calcio nazionale, calcio europeo e calcio internazionale andiamo ad approfondire quelle che sono le probabili formazioni, visto che ci sono tanti ballottaggi e tante informazioni un po' sballate stiamo cercando di mettere ordine, abbiamo fatto i primi quattro gironi, oggi facciamo il girone E poi andiamo a concludere col girone F il girone di ferro, quindi veramente grazie di cuore all'amico Danilo e ai suoi compagni di viaggio veramente un gran, gran lavoro, ci stanno veramente facendo tanto, tanto supporto e andiamo ad analizzare quello che riguarda appunto il girone E, quello con Polonia, Svezia e Spagna che ieri sera ha pareggiato contro il Portogallo, mentre la nostra Italia ha battuto 4-0, la Repubblica cerca ottimo test poi nei prossimi video andiamo ad analizzare anche le amichevoli di ieri sera poi tante tante altre informazioni sul canale del Viteramo che si è trasformato in questo periodo nella casa degli europei per i fantacalcisti, quindi veramente un grazie di cuore e grande per il supporto di questo bellissimo canale, grazie di cuore a voi che mi state seguendo con così tanto affetto e vicinanza partiamo dunque dalla Polonia, un 3-4-1-2 per la squadra di Paolo Sosa con Czesdin Porta, Elik, Glick e Bendaker in difesa, Bendarek in difesa Beresinski, Krikowiak, Moder e Kedzokov a centrocampo e poi invece per quanto riguarda le punte saranno Milik e Lewandowski supportate da Zilinski che ha fatto veramente un gran, gran lavoro quest'anno durante la stagione del Napoli con Gattuso Krik insedia 1-2 centrocampisti, quella avanzata a questo punto di Krik arretraerebbe Zilinski dietro le punte ci sarebbe quindi Krik e questo potrebbe essere un po' il cambio da valutare le condizioni di Milik, uscito Malconcio recentemente la spalla ideale per Lewandowski, quindi staremo a vedere se appunto l'ex attaccante del Napoli sarà appunto pronto per questa competizione oppure no e molto dipenderà da lui, da questa capa d'attacco comunque Napolania sicuramente interessante se la gioca come secondo posto immagino perché la Spagna la vedo un po' più avanti e quindi credo che Napolania possa fare discretamente bene in questa competizione europea passiamo poi a parlare della Svezia che sarà orfana di Zlatan Ibrahimovic purtroppo l'assenza sarà importante e pesante la squadra si schiererà dunque con un 4-4-2 con Orsene in porta, un po' talonato da Johnson Lustig, Lindelof, Elander ed Agustinson in difesa quindi tanta vecchia scuola per quanto riguarda gli svedesi l'uomo immagine Kulusevski con Larsson, Orson e Forsberg un po' talonato da Klayson e in attacco ci sarà la coppia Berg e Isaac attenzione che anche c'è Granqvist che potrebbe essere potenziale rigorista che va a insediare Lander come difensore centrale e avanti ho anche Quaizon ex Palermo che potrebbe insediare Berg io credo che Quaizon alla lunga possa essere innestato ed essere titolare di questa Svezia Svezia che senza Ibra chiaramente superirà un po' la fase offensiva quindi purtroppo gli mancherà qualcosina davanti per il resto è una squadra molto equilibrata però difficilmente vedrà la luce degli ottavi questa squadra a mio avviso vedo qua la Polonia leggermente più avanti rispetto alla nazionale svedese altra squadra con tanta tanta esperienza vedete qui l'uomo copertina Juraj Kuczka la Slovacchia con un 4-2-3-1 si schiererà in questo caso per l'europeo tanta esperienza da verificare se appunto questa sarà sufficiente a passare il turno vedremo in queste partite in porta ci sarà Kusjak Koscielnik e Pekaki che è sottalonato da Satka con Skriniar, l'interessa Skriniar e Ubo Khan in difesa il napoletano Lobodka con Amsic anche lui ex Napoli ora al Goteborg al centro campo Kuczka, Duda e Mack dietro la punta che sarà appunto Strelek e da vedere appunto se sarà confermata in questo modo o no la nazionale slovacca Weiss ed Araslin sono armi esterne che possono essere pronte ad entrare nelle varie rotazioni la nazionale slovacca manca forse un po' di ricambio generazionale questo forse è la pecca peggiore di questa nazionale però come hai detto Slovacchia, Polonia e Svezia se si giocheranno alacremente il posto come seconda del turno vedo in questo caso la Spagna sicuramente più favorita rispetto alle altre passiamo dunque a parlare della Spagna la testa di serie del gruppo la favorita ieri ha chiuso con uno 0-0 contro il Portogallo devo dire che qua come confermato anche da Danilo e dai suoi amici ci sono parecchi e parecchi balottaggi come preventivato quindi la formazione è un po' un rebus andiamo ad analizzarla pezzo per pezzo perché su questa nazionale ci soffermeremo qualche istante in più la nazionale intanto è guidata da Luis Enrique ed è un ex Barcellona non ha convocato neanche un giocatore del Madrid perché appunto poi con l'assenza per infortunio di Sergio Ramos non ha convocato però neanche vari assensi Isco e Carvajal insomma ha lasciato dietro tanti tanti giocatori del Real Madrid in questo caso come sapete anche la stampa si divide parecchio tra la stampa del Barca e la stampa del Madrid e la stampa del Real Madrid sicuramente è pronta col fucile in mano col fucile puntato per accusare appunto Luis Enrique di queste scelte intanto non ha convocato tutti i 26 i giocatori previsti ne ha convocato solo 24 questo per evitare le rotazioni di importo inferiore da verificare perché Luis Enrique che comunque qualche come dire scheggia di pazzia ce l'ha quindi vediamo quale sarà il suo assetto tattico dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 si parte già da un ballottaggio in Porta dove Unai Simon dovrebbe essere titolare ma c'è De Gea pronto a subentrare io credo che Simon sia al 60% titolare De Gea al 40 in difesa ci saranno Llorente Laporte vista l'assenza di Sergio Ramos Pau Torres e poi a sinistra c'è un ballottaggio tra Charlie Alba e Gaia ieri ad esempio Gaia è partito titolare quindi questo è un ballottaggio importante anche sulla fascia sinistra della Spagna a centrocampo la titolare dovrebbe essere Busquet la colonna veramente portante del Barca e della Spagna c'è un ballottaggio tra Pedri e Rodri comunque un ballottaggio intrigante molto molto interessante e poi c'è Coque pronto a subentrare anche se appunto c'è anche Tiago come potenziale supporto di questa nazionale in avanti c'è un ballottaggio forte intenso tra Dani Olmo e Gera Moreno il recente vincitore della Coppa UEFA dell'Ex Coppa UEFA dell'Europa League con il Villareal la punta centrale dovrebbe essere Alvaro Morata l'uomo copertina senza ombra di dubbio e poi ci sarà Ferran Torres come potenziale ultimo 11 di questa nazionale come detto ci sono parecchi ballottaggi lo stesso Sergio Roberto sulla destra in difesa tallona Iorente quindi gli ballottaggi sono tanti sono importanti come confermato da Danilo e dai suoi amici in questo caso forse può essere utile magari coprirsi con la coppia sapete che le coppie non mi entusiasmano tantissimo però forse in questo caso può essere utile fare delle coppie magari anche low cost in questo caso sicuramente la porta va presa come coppia perché Unai Simone De Gea in ogni caso De Gea costa pochissimo costa solo un credito quindi la coppia qua assolutamente intrigante soprattutto se fate il fantaristone chiaramente se lo fate anche con gli amici a maggior ragione va fatta sicuramente la coppia io ho terminato per quanto riguarda appunto il video sulle prove di formazione del gruppo E fatemi sapere cosa ne pensate se siete d'accordo se non siete d'accordo se avete dubbi di formazione vi ricordo che è sempre attiva la app di Magic Gold scaricata da qui sotto vi lascio tutti i link che ha implementato la funzione chiede all'esperto tramite questa funzionalità potete entrare in contatto direttamente con me in qualsiasi momento tramite le domande vi rispondo praticamente in tempo reale quindi veramente è un grande supporto grazie agli amici di Magic Gold che hanno fatto questa implementazione sia per richiedere l'esperto sia per appunto la funzionalità dell'europeo hanno lavorato lacrimente hanno tirato fuori veramente un prodotto top che appunto sarà a mio avviso da qui ai prossimi anni la bibbia per i fantallinatori quindi è un'app che non deve mancare sul vostro smartphone quindi grazie di cuore agli amici di Magic Gold per questa bella implementazione vi ricordo un po' di note tecniche di servizio fate l'iscrizione al canale YouTube il veterano del fantacaccio se siete già iscritti fate un po' di pubblicità di condivisione non costa nulla potete fare anche i like ai video scorsi un po' di commenti un po' di visual mi aiutano a crescere ed essere più popolare su YouTube quindi grazie di cuore che vorrà fare questo tipo di atteggiamento trovate qui sotto anche le istruzioni per inserirvi nella lega del veterano al fanta europeo del veterano l'iscrizione è gratuita tramite fantaclub non costa nulla c'è iscritto tutto è molto semplice ci vogliono 5 minuti e insieme giocheremo veramente in modo divertente siamo quasi 500 iscritti pensate ne avevo preventivati solo 200 siamo arrivati quasi a 500 quindi veramente risultato straordinario come diceva Arrigo Sacchi e infine vi ricordo che trovate qui sotto il link per potervi abbonare al canale del veterano grazie di cuore è un modo per supportare il veterano anche in altre forme quindi in questo caso in forma economica sono di tre tipologie abbonamento veterano base costa 2,99 euro al mese abbonamento veterano top costa 6,99 euro al mese abbonamento veterano full costa 9,99 euro al mese mi permette di crescere sempre di più dal punto di vista qualitativo quindi grazie di cuore a chi vorrà supportarmi anche in questa sede in questo modo vi auguro buona giornata a tutti buon weekend a tutti buon europeo a tutti buon fanta europeo dove vedranno tutti e ci sentiamo presto sul canale a presto ciao ragazzi grazie a tutti